Tonno. Proprietà, benefici e controindicazioni. Ciao a tutti. Oggi parleremo di un alimento che molti di noi adorano, il tonno. Il tonno è un pesce molto popolare, conosciuto per il suo sapore unico e le sue numerose proprietà benefiche. Prima di iniziare il video, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora, immergiamoci nel nostro video. Il tonno è ricco di proteine di alta qualità, fondamentali per la nostra salute. Le proteine aiutano a costruire e riparare i tessuti del nostro corpo, a produrre enzimi e ormoni e a mantenere sani i nostri ossa, muscoli, cartilagini, pelle e sangue. Oltre alle proteine, il tonno offre anche una buona dose di vitamine e minerali. Contiene vitamine del gruppo B, utili per il metabolismo e il sistema nervoso, vitamina A, utile per la vista e la pelle, e vitamina D, fondamentale per l'assorbimento del calcio. Il tonno è anche una fonte importante di omega 3, acidi grassi essenziali che aiutano a mantenere sano il nostro cuore. Gli omega 3 riducono i livelli di colesterolo cattivo, prevengono l'infiammazione e possono aiutare a prevenire le malattie cardiache. Un'altra proprietà benefica del tonno è la presenza di selenio, un potente antiossidante che combatte i radicali liberi e aiuta a prevenire l'invecchiamento precoce. Il selenio contribuisce anche a rafforzare il sistema immunitario e a proteggere la salute della tiroide. Ma nonostante questi benefici, il consumo di tonno ha anche alcune controindicazioni. Una delle principali preoccupazioni riguarda la presenza di mercurio, un metallo pesante che può accumularsi nel nostro organismo e causare problemi neurologici se ingerito in grandi quantità. Per questa ragione, è importante consumare il tonno con moderazione, soprattutto nei gruppi più a rischio come le donne incinte e i bambini. In generale, si consiglia di non superare i due o tre pasti a base di tonno a settimana. Inoltre, è importante fare attenzione alla provenienza del tonno. Il tonno pescato in modo sostenibile è da preferire rispetto a quello proveniente da pratiche di pesca dannose per l'ambiente. Infine, considera anche che il tonno in scatola può contenere quantità elevate di sale, che può contribuire all'ipertensione se consumato in eccesso. Pertanto, scegli sempre tonno a basso contenuto di sodio o sciacqua il tonno prima di consumarlo per ridurre il contenuto di sale. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Inoltre, troverete il link al nostro negozio su Tisily, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, shopper bag funzionali e tanto altro per il benessere. In conclusione, il tonno è un alimento molto nutriente che offre numerosi benefici per la salute. Tuttavia, è importante consumarlo con moderazione e fare attenzione alla sua provenienza e al suo contenuto di sale. Ricordate, una dieta equilibrata e varia è la chiave per una vita sana. Ricorda, il tonno è una fonte preziosa di nutrienti benefici per la tua salute, ma è importante essere informati e responsabili nel consumo. Se hai intenzione di includere il tonno nella tua dieta, considera le tue esigenze alimentari e cerca fonti sostenibili e di alta qualità. Prima di apportare cambiamenti significativi alla tua dieta o di prendere decisioni sulla pesca del tonno, consulta sempre un professionista medico o fatti guidare dalle raccomandazioni di organizzazioni marine affidabili. Scegliere il tonno proveniente da fonti sostenibili è un passo importante per contribuire alla conservazione degli ecosistemi marini. Cerca sempre l'equilibrio tra il benessere personale e la sostenibilità dell'ambiente marino. Grazie per aver esplorato con noi i benefici e le considerazioni sul consumo del tonno. Mantieni la tua salute e il pianeta in mente mentre prendi decisioni consapevoli riguardo alla tua alimentazione. Ci vediamo al prossimo viaggio di scoperta qui su Starbene.